Direttore, siamo arrivati a 90 minuti dal termine della stagione regolare, un'ultima partita in cui il Teramo deve obbligatoriamente giocarsi tutto il possibile per cercare di evitare i play-out. Noi intanto dobbiamo fare il nostro e dobbiamo assolutamente vincere, il conto è solo vincere. Poi siamo costretti a vedere anche i risultati di altre gare, però diciamo che minuto dopo minuto avremo la radio cronaca da amici nei campi. Ci racconta un po' come siete arrivati a Zichella dopo quei no, delle impossibilità da parte di Cifaldi e di Asta? No, io se devo essere sincero ci ho pensato da subito, però io correttamente, avendo un ottimo rapporto con Asta, la prima persona che ho chiamato è stata Asta. ha declinato l'invito per coerenza, mi ha detto per motivi familiari anche e io non sono stato lì a insistere perché ho capito che non aveva l'entusiasmo che io cercavo in lui e allora ho chiamato Zichella. Non ho pensato a nessun altro allenatore, né allenatori nuovi, né ho pensato solo a Zichella perché lo conosco, ha personalità, ha carisma, ma soprattutto ha capacità di tirarci fuori da questa situazione. Che cosa è mancato con Palladini? Ma io che cosa è mancata? Non lo so, è partito bene, poi non so se la squadra si è seduta, si è collata negli allori, eccetera, poi in queste occasioni è chiaro che bisogna essere drastici, a malincuore, essendo a Palladini una persona a livello umano ottima, un gran signore, mi è dispiaciuto, la società è dispiaciuta, però abbiamo fatto questa scelta per il bene del terreno. Con il senno del Poi arrivati a questo punto si aspettava lei qualcosa in più all'inizio stagione, magari dal terreno e comunque globalmente da quello che poi è stato, dai risultati della squadra? Sì, io sono sincero, io avevo tanta fiducia in questa squadra perché nei singoli sono più bravi per quello che è il collettivo e questo mi è dispiaciuto e questo la squadra ha palesato secondo me in maturità. Arriveranno, se arriveranno i punti di penalizzazione a Sant'Arcangelo e se sì entro quando secondo lei? Arriveranno certamente entro venerdì, l'unica cosa che non sono certo è se sono uno o due. Grazie. Grazie.